Il 21 ottobre del 1912 ci fu una lettera di Padre Pio a Padre Benedetto, Padre Pio si trovava a Pietrelcina. Era una lettera con cui si disponeva che la corrispondenza sua col Padre Agostino doveva essere passata a Padre Benedetto. E Padre Pio scrive così, ho ricevuto la vostra gentile lettera, la quale da una parte mi ha consolato perché vi siete ricordato di chi non ha né meriti e né soprattutto diritto di essere ricordato, scrive Padre Pio al suo padre provinciale. Da un'altra parte poi mi è dispiaciuto alquanto della vostra riprensione paterna, sì ma assai dura, sono stato sempre nemico della doppiezza ed ora mi si accusa che per iscusarmi ho ricorso alla menzogna solo perché dico la verità di essere quasi nell'impossibilità a scriverle. Non fu mia intenzione Padre Pio di disubbedirvi all'aver fatto trascorrere troppo tempo, ecco forse Padre Benedetto lo riprendeva del fatto che non scriveva al suo padre provinciale. E Padre Pio si giustifica dicendo che aveva tanto da fare nella sua Pietrelcina o a volte lui era costretto dalla salute malferma a stare a letto e non avere proprio la forza di scrivere. A me mi si ordina, scrive infatti, riposo completo della vista e se ottenuto una corrispondenza letteraria è stato solamente ed unicamente col padre lettore Agostino. Se conoscete il mio martirio, scrive Padre Pio, babbo mio, perché lui usava questa espressione nei confronti di Padre Benedetto, trovereste giustissima la mia asserzione. Il padre lettore fu sempre il mio direttore ordinario e nessun uomo come lui conosce a fondo il mio interno. A lui sono ricorso sì frequente aprendogli tutte le piaghe dell'anima, senza ritegno, senza timore alcuno, ciò che non è stato possibile di fare con altri e né mi è possibile di farlo. Prego a non chiedermene il perché, scrive Padre Pio, Padre Benedetto, se il mio stato muove in voi l'interesse e la compassione vi prego di accordarmi un favore nei limiti sempre di una possibile indulgenza che è figlia della stessa giustizia, cioè di farvi rimettere tutte le corrispondenze che invio al padre lettore con l'obbligo di tutto tenere segreto, essendo questo il comando di Gesù. Grazie